Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Enrico Bianco, oggi migliore in campo e protagonista nel pareggio per 3 a 3, Jack Dalmazza contro l'Olympique Magliana, diciamo una mezza impresa, sia per come si era messa la partita, sia per la partenza, perché ovviamente Magliana, campione in carica e secondo classificato, però l'avete giocato bene. Sì, sì, ce la siamo giocata e fortunatamente siamo usciti ad agguantare questo pareggio, quasi alla fine, il cuore ci ha premiato, loro sono nettamente più forti di noi, bisogna ammettere, molto più organizzati, noi siamo un po' rimaneggiati, però comunque la squadra inizia a girare e la voglia comunque di conquistare il risultato è andata per la migliore. Ci tengo a dire che sono premiato migliore in campo, per me non sono migliore in campo, tutta la squadra è migliore in campo. Quindi diciamo della prestazione della squadra, al di là di tutto la potevate anche vincere questa partita, Netti si è mangiato due gol clamorosi, sottoporta, potevano anche arrivare i tre punti. Forse il fratello l'ha pagato per sbagliare da sottoporta, sì ce la siamo giocata fino alla fine, potevamo prendere 4-5 gol in primo tempo, poi alla fine abbiamo rischiato di vincere, il calcio è questo, è bello anche per questo. Diciamo i nesti importanti per Jack D'Ammazza, che anche dopo, ricordiamo, mancava Mondas qualificato, dopo la settimana scorsa stavate quasi per fermare la capolista, il baffo avete perso all'ultimo, adesso riuscite a fermare la seconda, quindi siete D'Ammazza grandi. Noi non vinciamo, però comunque il pareggio, abbiamo un po' di pareggite, però comunque siamo una buona squadra e diamo filo da torcione a tutti, la prima, l'ultima, ce la giochiamo con tutti. Vabbè poi alle fasi finali sarà tutta un'altra cosa. Speriamo di arrivarci come squadra di relazioni di questo torneo. Ok allora ti lascio un buccalone. Un saluto al presidente di questa squadra, Antonio Duriello, che comunque ci ha onorato di fare questo torneo, anche se è un presidente un po' tirchio, però comunque va onorato. Prima di andare ti do la tessera da socio Arend, tu puoi andare al bambù e ai sconti in quanto socio, il nostro sponsor. Grazie. Ok, in bocca al lupo e complimenti. Grazie lupo. Buonasera da Millennium, Real Traiano batte 1-0 Monster Beat, siamo con D'Alteri il capitano e dei migliori in campo Arend, Giuseppe Montarillo. Real Traiano continua a vincere, la gara era abbastanza importante per la squadra avversaria, siete riusciti comunque a trovare una vittoria, però sofferta. Soffertissima, no sofferta, perché la squadra avversaria aveva un tasso tecnico alla pari, se non superiore al nostro, però ce la siamo giocati alla pari e siamo andati sopra di un gol con il bel gol di Gossabile. Però è un'invenzione di Montarillo. Sicuramente, abbiamo una squadra che quest'anno lotta per vincere il titolo, sperando di arrivare a quel traguardo che già avevamo la passata stagione. Ecco, diciamo un primo tempo che però termina 0-0, un Real Traiano che comunque macina a gioco, però non riesce a trovare il gol. Ecco, cosa è successo nel primo tempo? Ma ci siamo, il potere si è superato in diverse occasioni nel primo tempo. Ci siamo, il gioco ci sta, il gioco di squadra, giochiamo a livello corale, ci troviamo tutti a memoria, va bene così, andiamo avanti a te e salto. E' il suo Real Traiano che ne ha vinte tutte, manca soltanto il recupero contro lo Spartak. No, il Real Traiano non ha vinto nulla ancora, non ha vinto nulla, il Real Traiano guarda avanti, non guarda indietro. Senti, Odora, tessera omaggio a Montarillo, anche se molto criticato, secondo me è stato il migliore in campo di questa sera, la consumazione alpa bambù, ecco, diciamo un assist e un'altra invenzione per Costabile, quest'asse Costabile-Montarillo funziona bene in questo Real Traiano? Ma credo che ci conosciamo da tanto tempo, e Marco, ci troviamo bene insieme, e questo è. Ragazzi, in bocca al lupo per le fasi finale. Ciao, grazie. Ciao, allo, allo. Da millennium è tutto. L'ultima giornata di minor league, girone B, il Napolitans batte il 4-2, l'atletico mi piace, siamo con il migliore in campo, Mario Sorrentini, Sorrentino, scusatemi. Complimenti per la prestazione, ecco, facciamo un primo tempo s'affetto, però poi dopo il Napolitans è iniziato a tolare il vantaggio. Nel finale di primo tempo. Vabbè, è partita abbastanza semplice, abbiamo cercato di far segnare il nostro capitano Diego, che poi ha segnato. Che poi ha segnato. La scorsa partita ha fatto tre goli, però diciamo ci siamo divertiti, alla fine un po' di paura, perché uno in meno, un gollo solo di vantaggio, poi va bene, tanto bene. Ecco, diciamo la verità, un'espulsione a 5 minuti al termine poteva anche risparmiarsi la fai. Sì, ah, pensavo De Felice, vabbè ci sta tutto, perché comunque un fallo di reazione, no, non fa bene cosa, niente. Parliamo di De Felice, l'arbitrato come è stato andato? Che sta succedendo? No, 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 guarda, è stata una partita abbastanza semplice da arbitrare, quindi c'è che era... Mario, ti lascio una tessera che vale l'amaggio al bambu per se è stato il miglior in campo. L'ultima domanda, Napolitan, se quindi chiude questo girone B come seconda classificata? Ecco, diciamo progetti per questa cold cap. Ma arrivare in finale, non dico vincere perché secondo me ci sono scuola del più attrezzato di Dio, però almeno arrivare in finale. Ringrazio, ma Milano è tutto. Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Cassese e Francesco Sorrentino, migliore in campo della vittoria del Football Frego per 4-2 su Piazza Luigi. Con questa vittoria il Football Frego si aggiudica il primo posto matematicamente all'ultima giornata, nonostante la vittoria del Monide a Tavolino. Ha vinto a Tavolino con Lido Capri che non si è presentato, quindi Cassese, se diciamo avete sofferto un po', non avete giocato come giocate voi di solito, però è arrivata una vittoria alla larga. Le partite diciamo più povere di stimoli, noi giochiamo un po' male, se non subiamo uno o due gol, non riusciamo a intensificare un po' il gioco. Però anche giocando male noi vinciamo e questo l'ho ribadito anche le prime giornate, vinciamo sempre anche giocando male, quindi questo sia un grande punto di forza che non tutte le squadre possono avere. Siamo che chiudete questo girone con zero sconfitto, un solo parigio e tutte le vittorie. Come la vedi questa volta? C'è ramarica ancora per quel parigio personalmente, perché l'anno scorso ho perso soltanto una partita, con le ho vinte tutte contro il Cin Cin Team di Allocca, quindi io puntavo a migliorarmi, quindi non volevo neanche perdere una partita. Cerchiamo di fare solo questo parigio, cercando di fare solo vittorie adesso. Adesso invece parlo un po' con Sorrentino, migliore in campo. Se ci vuole raccontare la sua perla questa sera. È uscito un bel tiro, si è angolato, è scesa la palla, è stato un bel gol, sono soddisfatto. Ultima cosa, prima di lasciarvi, se hai qualche preferenza, se conosci le squadre che potresti incontrare tra Spartak, Monster Beats e Blaugrana nell'altro girone? Guarda, non è nessuna preferenza, chi incontriamo o incontriamo, cerchiamo di vincere e ripeterci anche in questo torneo. Sperando di essere al completo, perché voglio ricordare, noi abbiamo fatto una partita al completo quest'anno. Nel momento, oggi ho giocato Pedalino con una caviglia, sì e una caviglia, no. Ho giocato senza centrocampo. Cercheremo di fare conteggio pieno. Conosco dell'altro, conosco il Monster Beats. Spero per loro che non mi incontrano, perché se no perdo, ve lo dico, ha sempre un'annunziata. Ho già perso qualche torneo contro di me in semifinale, quindi spero per loro che non mi incontrano, Andrea Russo, Luigi Musto. Spero per loro che vincono, quindi non arrivano quarti se vincono, giusto? No, no, l'hanno già perso, devono aspettare cosa fanno Spartak e Blaugrano. E chi deve vincere per non fare arrivare quarti? Se vince Spartak, arriva quattro Monster Beats. E quindi spero che Monster Beats arrivano quarti per loro. Poi vorrei complimentarmi per l'arbitragia di Liguri. Ottimo arbitragio. Adesso chiudiamo, ci stiamo un po' dilugando con la tessera Arend per Sorrentino, che può andare al nostro sponsor di bambù e hai una consumazione risparmiando qualcosina. Grazie mille. Anch'io. Vabbè, questa te la sei data da solo? No, no, l'hai data da solo perché... Complimenti per il primo posto. E in bocca al lupo per i quarti. Grazie mille. Abbiamo avuto il nostro dovere.